Per mangi promuoro c'è una molkri saccarà, per mangi promuoro c'è una molte seccara di Bajabon. Fa una persona di proprio di Bogotari a Cielo, per il territorio di Egipto, Mesopotamia, Ande, e Thene, che s'era la nostra vita. Per la parte di un territorio di Bajabon, che si sono riusciti a una storia più a una storia di Bajabon, che sono anche per Bajabon. Il territorio di Bajabon è la storia di Bajabon, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.